Musica Appuntamento questa sera in piazza San Domenico con la performance di Isabella Rossellini dal titolo Green Porno. All'interno della manifestazione icassica la celebre attrice nonché figlia di Ingrid Bergman e del celebre Roberto Rossellini ha portato in scena il sesso degli animali. Un argomento di certo piccante e che ha lasciato non poche perplessità nel pubblico, pubblico non così numeroso. Infatti molte delle sedute allestite in piazza San Domenico sono rimaste vuote. Voglio avere una carriera, però voglio anche stare a casa con i miei figli e quindi se potessi avere tante Isabelle, una potrebbe essere qui stasera a parlare con voi e l'altra invece potrebbe rimanere a casa a occuparsi dei bambini. Quindi potrei anche avere un amore, un marito e un amante e fare l'amore all'uno e all'altro allo stesso tempo perché il marito è qui. Amore come stai l'amore? Sicuramente uno spettacolo originale che non ha lasciato poche perplessità negli spettatori dato che la Rossellini stessa si traveste, si trasforma negli animali dell'era rappresentata e mette in scena delle scene vere e proprie di sesso. Grazie a tutti.